Ciao Tabatina, lo sai chi è lei? Ora si chiama Sasha ed è la sorellina di? Di? È la tua sorellina, col suo padrone che la adora come adora mamma marica a te. Comunque è paurosissima e magari se prendete contatti in privato vi confrontate. Guarda come c'è la codina, guarda come trema. Anche le sorelle sono così. Tabatina addirittura scappò per la paura, non si possa, se no l'avrebbero persa. Poi l'abbiamo ritrovata. Guardate la faccia di mamma Morgana che vorremmo tanto rivedere. Lei? Lei è bebella mi sembra. Guardate non si può guardare, meravigliosa. Cioè voi praticamente c'ha un anno, giusto? Un anno quasi. Aspetto alla... Ok, vabbè, mentre io continuo ad ammirarla e un saluto da una cucciola alla seconda cucciola che riusciamo a vedere. No, no, bella, bellissima, meravigliosa. E salutiamo anche la mamma Morgana. Ciao!